Anche a lei, buona festa. Allora, a proposito di numero uno, avevamo annunciato il ben burino, campione d'Italia così, vi lascia un altro numero uno che è Francesco Totti, che oggi è guaglia il primato di Bonifetti come numero di gol realizzato in carriera, ma... Il senso di metti daire e l'edito? No. Io molto bene, ma mi sembra che il tuo senso è benissimo, insomma, è un'altra cosa. Sia, dove? Allora, se moriti in collegamento, vi voglio far salutare, ma voi vi conoscete un po' o non avete mai scambiato un po' di piatti a riservere? Un po' che Murillo? No, ovviamente no. Lo stavano rispondendo solo qui in Serena. No, 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 no. No, 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 no. Mister Murillo, ripresenta Francesco Locke, finalmente, che se tu non sono stati qualche cosa. Ah, no, 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 no. Non si è asservato? Non si è asservato? Non si è asservato? Non si è asservato. Chi va locada? Chi si è asservato? No, no! Finita! Sì, no, no... No, no, no... Ti guarda il video? Slicing? Uhum No, I'm not an expert. Typical Italian picture. Grazie.